Il 25 aprile, dopo i fischi al prefetto, la questura invia una segnalazione al Ministro dell'Interno, installati in piazza Duomo altri due dissuoso rimobili per evitare l'ingresso ai furbetti, presentati i candidati della Lega in Consiglio Comunale alla presenza del Ministro Centinaio e del Commissario Regionale Ceccardi. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale torniamo a parlare dei fischi e delle contestazioni al prefetto Rosalba Scialla, venute durante la cerimonia della liberazione dello scorso 25 aprile. Secondo il Corriere Fiorentino, il questore avrebbe inviato un telix al Ministero dell'Interno annunciando l'intenzione di voler denunciare i contestatori. Sentiamo. Il questore di Prato Alessio Cesareo avrebbe denunciato i responsabili della contestazione al prefetto Rosalba Scialla durante le manifestazioni del 25 aprile in piazza Santa Maria delle Carceri. Lo rivela il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina. Secondo il giornale, il questore avrebbe inviato un telix urgente al Ministero dell'Interno per informare dell'accaduto, ovvero che alcuni iscritti all'Ampi hanno fischiato e contestato Scialla e lo stesso Cesareo, rei di aver autorizzato la manifestazione di forza nuova in città lo scorso 23 marzo. Contattato da TV Prato, il questore non conferma né smentisce la notizia, trincerandosi dietro un no comment, poi però aggiunge non posso dire altro, si tratta di atti interni. Il Corriere Fiorentino, evidentemente in possesso del testo contenuto nel telex inviato dalla Questura a Roma, rivela alcuni passaggi dell'informativa nella quale si dice che la Digos e la Polizia Scientifica hanno fatto delle riprese della contestazione e acquisito alcuni cartelli con frasi considerate non rispondenti alla solennità della manifestazione. Secondo l'informativa del questore, i soggetti ritenuti responsabili in corso di identificazione, saranno segnalati all'autorità giudiziaria. Nel telex però non sarebbero indicati i reati contestati agli iscritti all'AMPI, probabilmente si tratta di quello di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni costituzionali, ma in ogni caso sarà la Procura a stabilirlo. In Piazza Duomo sono arrivati due dissuasori mobili antifurbetti, saranno attivi dentro alcuni giorni il tempo del collaudo e impediranno così l'accesso alla piazza e non autorizzati. Si abbasseranno infatti soltanto per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine e dalle 6 alle 9 del mattino anche per i mezzi autorizzati al carico e allo scarico. Sono stati installati e saranno attivi tra qualche giorno due dissuasori mobili a scomparsa in Piazza Duomo. I due pilomat sono stati posti, uno lungo il lato che affaccia sul Largo Carducci, l'altro su Via Santo Stefano. Una decisione resa necessaria in quanto le fioriere mobili che li erano poste venivano puntualmente e impropriamente spostate. In Piazza Duomo è una sconfitta sotto un certo punto di vista perché erano state messe delle fioriere di cui una mobile per le emergenze, quindi se arrivava un'ambulanza o un vigile fuoco che hanno il loro accesso ma nell'emergenza c'è la possibilità di spostare una fioriera centrale, è successo che quella fioriera non c'è vera verso di tenerla ferma. Con se a servizio a cui era stato dato il compito ogni giorno, ogni mattina di riposizionarla, dicevano che la riposizionavano, con lo specchietto del provvisore vedevano una persona che si avvicinava e la spostava per passare dopo un minuto. Allora, è una roba che secondo me dovrebbe far riflettere tutte le persone perché noi stiamo parlando di solo Piazza Duomo pedonale. Siamo stati costretti a mettere pilomat con tutte le segnaletiche di legge che non sono neanche molto gradevoli, però per disperazione. Quindi lancio un po' questo messaggio, siamo in difficoltà a far recepire una cosa molto semplice. Quindi credo che debba essere fatta una riflessione e si debba capire che non è possibile continuare in questo modo, si deve veramente cercare di avere dei comportamenti civili. Soltanto le forze dell'ordine e le ambulanze potranno abbassare i dissuasori che tra le altre cose saranno collegati con la centrale della Polizia Municipale, che in ogni momento, in caso di necessità, potrà abbassarli dal remoto. Sarà inoltre consentito il passaggio dei mezzi autorizzati al carico e allo scarico dalle 6 alle 9 del mattino. E passiamo alla politica. È stata presentata la lista della Lega. 32 candidati, tra loro anche gli ex di Forza Italia Mircola Franceschina ed Eva Betti. All'appuntamento erano presenti anche il ministro Gianmarco Centinaio, il commissario toscano della Lega Susanna Ceccardi, che ha sottolineato con il carroccio una Prato migliore. Sentite. I sei sindaci, i sei capoluoghi del centro-destra in Toscana che hanno vinto recentemente le elezioni sono sempre in contatto e condividono buone pratiche. Noi aspettiamo che la squadra si allarghi, aspettiamo anche il nuovo sindaco di Prato, Daniele Spada, il sindaco di Firenze, Ubaldo Bocci, perché siamo sicuri che queste città meritano di più. Prato merita di più. Dalla sicurezza al lavoro fino alla promozione al turismo, secondo la Lega Prato merita di più. Il carroccio lo ripete a più riprese durante la presentazione ufficiale dei candidati della propria lista all'Art Hotel Museo. Presenti all'appuntamento il commissario toscano della Lega e candidata alle europee Susanna Ceccardi, ma anche il ministro Gianmarco Centinaio, entrambi a sostegno della vittoria di Daniele Spada. Strade, vie e piazze di Prato sono diventati luoghi pericolosi, mano agli spacciatori, commenta Ceccardi. Manca la volontà politica di incidere da parte del centro-sinistra. Sono moltissimi cittadini pratesi che mi hanno contattata in qualità di coordinatrice della Lega Toscana in questi anni dicendo venite anche a Prato, ne abbiamo bisogno, perché Prato non si merita questo. Era una realtà, aveva un tessuto produttivo, artigianale, produttivo, incredibile, che negli ultimi anni è decaduto molto e ha bisogno di un rilancio. Tornando alla lista, sono 32 i nomi che si presenteranno alle amministrative del 26 maggio sotto il simbolo della Lega. In prima fila l'ex segretario provinciale Patrizia Ovattoni, ma anche Leonardo Soldi, consigliere comunale del centro-destra durante la giunta Cenni. Aurelio Donzella, attualmente iscritto alla Lega, ma ex consigliere comunale per Italia dei Valori e Francesco Innaco, ex consigliere comunale di Indipendenti per Prato. Da segnalare anche l'ingresso già annunciato dei due ormai precedenti vicecoordinatori di Forza Italia, Mircola Franceschina ed Eva Vetti, che hanno rassegnato le dimissioni dal partito guidato a livello locale dall'onorevole Erika Mazzetti. Noi saremo tutti i giorni praticamente nelle piazze, nelle periferie di Prato per ascoltare i bisogni dei cittadini, per spiegare il nostro programma, per convincere i pratesi che si può avere una Prato migliore. Per tutto il gruppo arriva ora un mese di intenso lavoro. I sindaci della Lega sono sindaci H24, ripete il ministro Centinaio, che attacca il PD. Loro si candidano per partecipare, la Lega per vincere. L'ho detto al nostro candidato sindaco, io dal giorno dopo, quando sarà eletto, metterò a disposizione i miei tecnici al Ministero per costruire insieme un percorso di promozione soprattutto della realtà di Prato, di questo territorio, per farla conoscere come realmente deve essere conosciuta in Italia e all'estero. E parliamo adesso dell'omicidio ravida. La Cassazione esclude la fuga e omissione di soccorso all'automobilista che si costitui 40 ore dopo l'incidente. La pena sarà ridotta. La Corte di Cassazione ha escluso la fuga e l'omissione di soccorso dell'automobilista che il 3 gennaio 2015 investì e uccise il 19enne Giancarlo Ravida. Per l'uomo, un cittadino marocchino, oggi 33enne, è stato confermato il reato di omicidio colposo. I giudici della Suprema Corte hanno rinviato il processo ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la rideterminazione della pena, che dunque sarà più bassa rispetto ai due anni e due mesi inflitti, anche per effetto del rito abbreviato, in primo e in secondo grado. Confermata la provvisionale in favore della famiglia della vittima, assistita dall'avvocato Luca Brachi. L'incidente avvenne in Via Valentini, in prossimità delle strisce pedonali vicino alla pizzeria Il Ragno. L'investitore si costituì più di 40 ore dopo, spiegando agli inquirenti di aver avuto paura delle conseguenze dell'impatto e sostenendo di essere rimasto sul luogo dell'incidente senza aver avuto il coraggio di ammettere le proprie responsabilità. Una linea perurata dall'avvocato difensore Leonardo Pugi, che ha trovato conferme in alcuni filmati e nella testimonianza di una delle prime persone giunte in soccorso di Ravida, la quale chiamò il 118 ricevendo indicazioni di non toccare il ferito prima dell'arrivo dell'ambulanza, che in pochi minuti giunse sul luogo dell'incidente. All'arrivo dei soccorritori, il ragazzo presentava profonde ferite alla testa e fu trasferito nel reparto di neurochirurgia di Careggi, dove purtroppo morì. Preziose indicazioni sulla dinamica dell'incidente arrivarono dalle telecamere di videosorveglianza della zona che filmarono l'investimento. Soltanto dopo la diffusione delle immagini da parte della polizia municipale, al fine di trovare altri testimoni, l'automobilista ha deciso di costituirsi. Continua il reportaggio dall'India di Dario Azzone e Renes Accenti sulle missioni delle suore di Iolo. Nella prossima puntata di Ticva, che sarà trasmessa su TV Prato questa sera alle 21.20, racconteremo la realtà della scuola gestita dalle Domenicane, dove studiano molti bambini provenienti dall'isola dei fuori di Casta. La maggioranza dei bambini vengono da una isola chiamata così Coroncorta, che è l'isola dei fuori Casta. Legalmente non ci sono fuori Casta e Casta alta o più bassa, però in realtà socialmente esiste. lo che nasce povero non è voluto da lui, quindi tenerlo sempre povero è una violenza che noi facciamo. Noi cerchiamo non solo di insegnare a scrivere, a leggere, ma cerchiamo questo è il nostro intendo, di dare i valori, i valori morali e sociali e spirituali. Questi ragazzi un domani saranno a loro volta genitori, quindi forse quando loro saranno i genitori la situazione cambierà, questo è quello che speriamo. Da grande voglio fare l'ingegnere meccanico, sono molto bravo nel disegno. Questo posto mi piace tanto, mi piace abitare qui. Domani al Teatro Politeama va in scena lo spettacolo che rievoca la notte dell'Uomo sulla Luna, ultimi biglietti per l'evento della Fondazione Parsec che vedrà protagonista anche Tito Stagno e TV Prato è media partner dell'iniziativa. Sono quasi esauriti i biglietti per Luna ed Intorne, lo spettacolo che domenica 28 aprile alle 17.30 al Teatro Politeama Pratese riporta in scena Tito Stagno, il giornalista Rai che 50 anni fa, la notte del 20 luglio 1969, divenne famoso per aver raccontato in diretta lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Lo spettacolo è gratuito, il biglietto, posti non numerati, potrà essere ritirato fino ad esaurimento alla biglietteria del Politeama oggi pomeriggio dalle 17 alle 19.30. È il Museo di Scienze Planetari e il motore del progetto che intrecciando l'avventura spaziale e il genio di Leonardo da Vinci ha creato un percorso culturale e scientifico con i disegni lunari dei codici leonardeschi e i razzi di Von Braun, gli studi sulla luce e le orme di Armstrong sulla Luna. Marco Morelli, direttore del Museo e della Fondazione Parsec e la storica dell'arte Alessia Cecconi apriranno con l'affascinante storia della Luna e di Leonardo, della ricerca di oggi e dell'intreccio fra scienza e arte fin dall'epoca di Da Vinci. Presenteranno anche in anteprima sei animazioni video sul tema realizzate da TV Prato con la musica di Riccardo Onori, artista pratese e storico chitarrista di Giovanotti. Alcuni brani tratti da Sonoristan, primo album da solista di Onori pubblicato nel 2018, corredono infatti le storie animate sull'avventura dell'uomo nello spazio. Von Braun è a capo del progetto di una delle macchine più potenti mai create dall'uomo, il razzo vettore Saturno V, che portò la navicella spaziale Apollo e il suo equipaggio umano sulla Luna. Ben 13 razzi multistadio vengono lanciati tra il 1967 e il 1973. L'obiettivo è raggiunto dalla missione Apollo 11 il 20 luglio 1969. Tutto il mondo, con gli occhi incollati al televisore, segue i passi incerti di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla polverosa superficie lunare e la bandiera a stelle e strisce accanto a Igor. In alto, Michael Collins è il testimone dallo spazio di un sogno millenario, divenuto realtà. Uscirà nei cinema il prossimo 23 maggio il film Tutto Pratese e forse solo Mal di mare, che vede tra gli attori anche Maria Grazia Cucinotta. Del film si è parlato ieri sera intorno alle 9. Ospiti Matteo Querci, di attore del progetto, lo sceneggiatore Tommaso Santi e l'attore protagonista Francesco Ciampi. L'idea nasce quasi dieci anni fa, un viaggio fatto a Linosa, e la scoperta di quest'isola meravigliosa che ha delle dinamiche tutte particolari, perché è un posto abbastanza difficile da raggiungere, di conseguenza anche da lasciare, è abitato da non più di 250 persone, per cui ha uno stile di vita tutto particolare, molto singolare. La prima impressione una volta sbarcata a Linosa fu che se non si fosse creato qualcosa da raccontare su quell'isola probabilmente avremmo avuto un bel rimpianto. E così poi con Tommaso e con Francesco l'idea di ritagliare su misura una storia che si adattasse perfettamente a quello stile di vita, a quelle realtà. Il 23 maggio c'è l'uscita nazionale in tutti i cinema d'Italia di Forse Sono Mar di Mare, perciò è il 23 maggio la data, ma il 21 maggio la sera all'Omnia Center del Parco Prato c'è l'anteprima con la presenza di tutti gli attori dei cast, tutti, per forza informazione, anche la Ucinotta. Perciò perché mancare al 21 di maggio, ma soprattutto chi non ce la fa il 21 di maggio, perché non andare al cinema e sostenere non solo il cinema italiano, ma pratesi all'interno. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20 e 30. Grazie per averci seguito e arrivederci.